Da marzo verrà pagato agli italiani che hanno presentato la richiesta l'assegno unico e universale. Le precedenti detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni o altri bonus come il premio alla nascita, l'assegno di natalità e gli assegni per il nucleo familiare lasciano il posto a questa nuova forma di sostegno. Le richieste potranno essere presentate dal 1 gennaio fino a giugno 2022. Per chi invia tutto tra gennaio e febbraio il pagamento dovrebbe cominciare già a metà marzo. In seguito invece il pagamento verrà erogato alla fine del mese successivo alla presentazione della richiesta. E in ogni caso per chi la presenta entro giugno i pagamenti, si legge sul sito dell'Inps, avranno sempre decorrenza per le mensilità retrate dal mese di marzo. Viene richiesto infine l'Isee per la definizione dell'importo da assegnare, altrimenti senza si otterrà l'importo minimo previsto, anche se è possibile inviare l'attestazione Isee in un secondo momento. L'assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico e fino al combimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni e senza limiti di età per i figli disabili. L'assegno è definito unico poiché è finalizzato alla semplificazione e al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. È invece definito universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico. L'assegno unico e universale riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, riguarda anche gli inoccupati, i disoccupati, i lavoratori autonomi, i pensionati, ma anche i percettori di reddito di cittadinanza. L'importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di Isee valido al momento della domanda, ma anche in considerazione di tanti altri elementi, quali per esempio nuclei familiari numerosi o figli disabili o madri di età inferiore ai 21 anni. È prevista una quota variabile e si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore ad un minimo di 50 euro. L'assegno unico e universale è corrisposto dall'Inps mediante accredito sul conto corrente postale o bancario o bonifico domiciliato. La domanda può essere presentata a partire dal 1 gennaio del 2022. Il cittadino può procedere attraverso SPID o attraverso gli istituti di patronato, che ricordiamo esercitano attività di informazione, assistenza e tutela gratuita, come previsto dalla legge numero 152 del 30 marzo del 2001, e soprattutto a seguito di un'attenta e mirata consulenza sulla base del proprio nucleo familiare.